Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video questo nuovo Mad Gamer 037 a questo qua il vlog che andremo a sferacavallo eeeh io lo so questa è mia madre eeeh tu sai che tuo figlio sai che sei chata aia eeeh si si ok andiamo a sferacavallo eeeh perchè qui in sola non si festeggia se a cosi metto mia vero mamma? uuuuuh si festeggia la madonna di grazia eeeh farò anche giornate eeeh quando c'è il primo giorno quanti giorni ci staremo la? no no un giorno uno o due due giorni perchè questo qua e poi quello la due giorni due giorni qui e farò anche eeeh farò anche la il corso dei videogiochi giocherò anche ai videogiochi mentre sono la mio fratello sto giocando a golf ball dove dobbiamo passare? no metto la strada non so se la vedete la vedo la vedo? va a girare no ok 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 ciao signora ciao no 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 ok vai no per casino non mi dico in faccia che devo cambiare tutto così youtube sei in un minuto chiedere a fare una cosa ora abbiamo girato il mio gioco in casa ragazzi farò soltanto per la prima giornata che vi mettete la faccia poi il secondo vi farò vedere tutta la strada ok mamma aspettiamo quando siamo arrivati meglio vabbè questa è la prima parte vabbè questa è la prima parte vatti un po' sul video questa è la prima parte e vi farò vedere tutta la strada ok mamma stessa this c'è